Bisogna ricominciare tutto da capo e buttare giù le cose brutte. Quando l'ambiente sarà ritornato bello come una volta, allora ci saranno meno cose brutte che succedono adesso. Per esempio la violenza negli stadi. Per esempio tirano i sassi agli omosessuali soltanto perché loro amano in modo diverso. Come è successo a Genova qualche settimana fa. E questo è razzismo. Questo è razzismo. Non si può tirare i sassi agli omosessuali soltanto perché loro amano in modo diverso. E allora il razzismo... Sì, il razzismo si abbatte soltanto... Non sto scherzando. Non sto scherzando. Il razzismo si abbatte soltanto facendo crollare il brutto. Tu sei bella però. Tu sei il brutto. Sì. Poi... Sai cosa c'è? No. Che... Io non riesco a grattarti. Un momento. Questo è il brutto. Che non riesci a grattarti la schiena. Questo è il brutto. Però tu puoi anche metterti una mano così. E serve? Sì, può servire. Non te che da che cosa. Tu stai così. Poi ci vediamo. Poi ci vediamo. Ma secondo te, chi è più innamorato dei due? Perché io vedo, insomma... Vedi? Lui, credo. Secondo me è lei. Lei, lei, perché lei è più... Insomma, c'ha un'altra... Lui è più... C'ha troppa premura. Premura. Vedi, guardalo. Lo vedi? No, no, andate avanti. Stavo guardando una cosa. Stavo guardando un ottimo anno. Voi vediare. Grazie.